Ritrova il sorriso alla Casa di Cura Santa Rita ad Atripalda, in poche ore con il dottor Gianfranco Galazzo, tutor e relatore Isomed, in plantologia dentale a carico immediato, per risolvere in maniera sicura e conveniente la mancanza di uno o più denti. In sala operatoria, con l'anestesista e impianti al titanio Isomed, italiani e garantiti 10 anni. Risolvi con noi i tuoi problemi di apnea notturne o inestetismi con l'ortodonzia invisibile, senza l'imbarazzo di un apparecchio vistoso. Non rinunciare alla perfetta condizione della tua bocca. Prenota subito il tuo consulto gratuito.